Capitolo 26 Albero della vita Siamo alla resa dei conti ragazzi Capitolo 26 Che diavolo Drake Drake Non sparate, fermi! Lui è mio Mi spiace, amico Non sei il mio tipo No No, 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 non è possibile Merda Sei sicuro? Allora Scusa Aia Ma dobbiamo sparare quelle cose No, così non gli facciamo niente Cazzo Morirai proprio qui Aia Vieni a prendere Vieni fuori e combatti Ma porca Per fermarmi Coraggio Vieni a prendere Cazzo Ma porca troia Aia Aia Maita, alzati Non puoi Non puoi opporti Al tuo destino Oh, no, 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 no Che sta succedendo? Wow Inizia la festa Siamo munizioni In cassa In arrivo Inizia la festa Però gli sto facendo un ma... No, io non ci credo No, io non ci credo Non puoi opporti al tuo destino Perché non muori? In cassa No, io non ci credo Oh wow No, io non ci credo Vieni, vieni. Sta crollando tutto qua, oh. Cazzo. Vieni, fuori, in combattimento. Drake! Si è arrabbiato, si è arrabbiato. Perchè non muore? Drake! Andre! Andiamo! Leo! Dai! Drake! Inizialo! Oh. Lazzare, vici! Tu pensi che io sia un mostro, ma non sei affatto diverso da me. Quanti uomini hai ucciso? Quanti soltanto oggi? Così si fa. Nessuna compassione né pietà. Fallo! No. No. Non ne hai il coraggio, vero? Forse no. Ma loro sì. No! 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 Che brutta fine, oh. No! Santi! Via! Oh! Oooooh! Veloce, 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 veloce Eh, però non perdiamo l'equilibrio Sì, ma è lento come la merda Iscrivereste Oh, cosa succede? Nade? 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 Uh! Gesù! Spera! Cosa? Giazzon di te! Eh? Attenzione! Coraggio! No, 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 no! Forza! Eccoci! Grazie! Coraggio! Dobbiamo portarla via! Su, forza! Forza, bella! Che diavolo hai combinato laggiù? Oh, beh! Ho salvato il mondo! Ok! Ce l'hai? Ci stiamo mettendo troppo! Andiamo! Oh, no! Oh, no! Elena! Oh, cielo! No! Elena! Resisti, ok? Resisti! Non abbandonarci! Andrà tutto bene! Te la caverai! Andrà tutto bene! Elena! Non puoi! Elena! Una preась! Andrà! Eリ Era! Eri sì! Entrapera! Own DR È stato un viaggio lungo e strano, no? Eh già. Dovresti fare l'eroina più spesso. Ti si addice. No. Dimmi una cosa, Nate. Dimmi. L'ami. Chloe, mi dispiace, io. No, non ti preoccupare. Davvero, ma fatti... fatti un favore, cowboy. Diglielo. Chloe. No. Tocca a me andarmene. Ma ammettilo, ti mancherà questo culo. Beh, c'è qualcuno che dovrebbe essere a letto. Paziente difficile, testarda come un mulo. Non sono testarda, sono irrequieta. Quindi, niente zaffero gigante. Te lo ripeto, no. Ne sei sicura? Sì. È solo una metafora, Sally. Le metafore non pagano i debiti. Eh, succederà qualcos'altro. Basta avere fede. Già. Aggiungi un quarto di dollaro e avrai 25 cents. Dov'è andata Clu? A dopo. Oh, no. Sei un vecchio sporcaccione, Sullivan. Hai fatto bene, Nate. Penso che approverebbe. Sì? Allora, adesso dove andiamo? Non lo so. Non ci ho ancora pensato. Come no, certo. Se per questo, nemmeno io. Bene. Allora, in una scala da 1 a 10, quanta paura avevi che morissi? Quattro. Quattro? Sì, perché? Un quattro. Sì. Per me tu eri un otto. Un otto? Sì, senza dubbio un otto. Un otto? Quei guardiani erano un otto. Stai scherzando? Beh, erano terrificanti. Allora chi un 10? Ai pagliacci. I pagliacci la spuntano sulla mia morte. Io... Io odio i pagliacci. Ai pagliacci. Odio i pagliacci. Oh cielo. Pensavi che fossi morta? No. Tu pensavi che fossi morta? Sì, invece. Ti ho visto piangere. No, sapevo che eri con me. Hai pianto un pochino? Ho pianto. Stava piovendo. Non è vero. Eri priva di sensi e stava piovendo. C'era un sole fortissimo e tu stavi piangendo. Il sole? Ma sei resvenuta? Vabbè. Ho le tue lacrime in un vaso. Ho le prove. Quattro. E così ragazzi, si conclude Uncharted 2, il covo dei ladri. Bellissimo capitolo, veramente bello. Mi è piaciuto un sacco. E adesso, ovviamente, passiamo ad Uncharted 3. È ovvio. L'inganno di Drake. Non vedo l'ora di giocarlo ragazzi, anche questo. È portato sul canale, ma non credo che lo farò subito. Aspetterò un po' di tempo. Anche perché giocarlo di fila non mi piace. Risco di annoiarmi. Infatti ho aspettato parecchio tempo. Dal primo al secondo capitolo, proprio per questa ragione. Preferisco staccare un po'. Lasciar passare qualche mese prima di giocare al capitolo successivo. Li porterò tutti quanti, sia chiaro. E spero di portare Uncharted 4 su PC. Doveva uscire a giugno. Poi non si è saputo più nulla sulla versione PC di Uncharted 4. Però adesso, di recente, ho letto che uscirà in autunno. Però non c'è una data precisa ancora. Ma abbiamo tutto il tempo per giocarci Uncharted 3. L'inganno di Drake. Ma non lo farò subito, come già detto. Si conclude qui questa serie. Spero che vi abbia fatto piacere viverla insieme a me. Ragazzi, come sempre, lasciate l'ai, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.